Alessandro Revello è il sindaco di Vezzi Portio e diciamo che quello che per primo sulla propria pelle anche dei cittadini ha vissuto l'inconveniente di questa frana, per fortuna senza conseguenze peggiori, perché vedendo anche i massi che si sono staccati insomma c'è da dire è andata bene. Sono d'accordo con lei, è andata bene, purtroppo queste viabilità del primo introterra come spesso succede hanno delle criticità che nel tempo si sono sempre aggravate. In questo caso siamo stati fortunati che la provincia è intervenuta immediatamente nella notte che la caduta dei massi era già qui presente, addirittura il presidente con i tecnici e adesso come vedete hanno già iniziato a lavorare con opere interne della provincia che dobbiamo ringraziare proprio per la velocità e per, come abbiamo saputo adesso, la tempistica dell'apertura della viabilità proprio dobbiamo ringraziare perché qui ci sono persone che si devono spostare per motivi di lavoro ci sono persone che hanno delle attività commerciali. Dobbiamo ringraziare, come stavamo dicendo, la provincia che è intervenuta immediatamente e che nelle giornate di oggi e sino a sabato cercherà di riuscire a pulire e a terminare queste opere di pulizia e di messa in sicurezza. Ecco, ricordiamo che questo è il collegamento con Finale Ligure, quindi lo sbocco al mare, è un'arteria principale, fondamentale. Dicendo proprio quello, è l'SP8 che collega Finale all'entroterra di Vezzi e Feglino perché c'è la parte che devia suorco e il nostro comune su Vezzi Porto, quindi tutte le frazioni e si raggiunge anche con facilità il casello di Spottorno. Infatti nel periodo, nei weekend, il sabato, la domenica e nei giorni di festa questa strada anche viene frequentata da chi usufruisce del casello di Spottorno per evitare code sulla oreglia. E poi soprattutto, come dicevo, c'è molta gente che transita sulla strada per andare a lavorare o per andare al mare perché abbiamo dei bed and breakfast, abbiamo dei ristoranti che se questa viabilità non è operativa, non è aperta, hanno sicuramente dei danni come potete immaginare.